Non aveva più notizie dell'amico e ha lanciato l'allarme ai carabinieri quando i militari sono arrivati in un'abitazione a Santa Giustina in Colla, hanno trovato davanti ai loro occhi una situazione al limite. Un anziano viveva circondato da rifiuti con una decina di gatti e galline. L'85enne è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Considerate le gravissime condizioni igienico-sanitarie della casa, è stato chiesto l'intervento del sindaco per una bonifica.